Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Prestare attenzione per le avverse condizioni meteo previste oggi su tutta la rete stradale della Toscana. Sulla FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e Lastra assigna 3 km di coda in direzione Firenze e 1 km di coda in direzione mare e per traffico intenso ci sono coda in uscita a Santa Croce in direzione mare e rallentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. A Firenze iniziano oggi i lavori di asfaltatura in via Lippi e Macia, chiusure a tratti della strada e delle vie limitrofe. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!